Open Day questo pomeriggio per il corso della Fondazione ITS per diventare tecnico agroalimentare. Un momento di approfondimento per far conoscere meglio questo percorso di studi post diploma. Ma chi può frequentare il corso? Deve essere interessato al settore agroalimentare, dall'agricoltura alla trasformazione, avere un forte interesse in questo ambito. Non necessariamente deve avere un diploma agrario, perché appunto qua si lavora anche sul riprendere determinate competenze, si va tantissimo in aziende, quindi si impara anche dalla realtà aziendale, ciò che magari non si è studiato, preso sui libri di testo in un percorso ordinario e quindi non ci sono preclusioni da questo punto di vista. Un settore, quello agroalimentare, in controtendenza con il resto del settore economici e un corso, quello di formazione, presentato oggi, che vanta l'80% dei ragazzi usciti già occupati. Il settore agroalimentare è un settore prima di tutto anticiclico. Adesso è chiaro che è in sofferenza come tutti per la questione legata all'energia e agli eventi che sono noti. Ma è un settore che a Mantova ha un'alta marginalità nella produzione per esempio dei formaggi a pasta dura, della trasformazione delle carni suine. Settori che oltre a legare l'aspetto più strettamente agroalimentare, hanno anche una forte vocazione all'export perché buona parte dei prodotti finiti vengono collegati sui mercati internazionali. Il nostro corso prevede tra l'altro anche moduli di marketing, quindi non è un corso strettamente legato all'agroalimentare, prevede una serie di conoscenze un po' più ampie. Ad affiancare i ragazzi consulenti del lavoro che li guidano anche nel percorso di inserimento in azienda. Io sono molto contenta perché mi hanno incaricato per lavorare sul come si lavora, quindi sul come fare gruppo e come lavorare sulla comunicazione interna, sulla comunicazione esterna dell'azienda. In più faremo un nuovo percorso che è proprio quello propedeutico all'inserimento in azienda, quindi tutto quello che riguarda il self-marketing, quindi gli strumenti di autopromozione, la capacità magari di presentarsi, anche lavorare sulla propria immagine, sulla propria capacità di lavoro, di comunicazione anche a colloquio, nella speranza che i ragazzi possano avere una preparazione anche decisamente più orientata alle competenze un pochino più concrete. Tutte le informazioni su www.itsagroalimentaremn.it Le iscrizioni stanno andando bene, abbiamo ancora dei posti e ci teniamo ad avere un'aula il più possibile composita, organizzata, strutturata, perché quando si parte poi naturalmente l'attività va avanti ed è difficile accogliere persone quando c'è già stato un avvio. Ovviamente stiamo ancora facendo ricerca, ci sono le selezioni il 12 prossimo, un'altra tornata di selezioni, abbiamo già diverse iscrizioni.